e poi ho bisogno del padrino e la madrina che lasciano il loro incarico svolto egregiamente e li ringraziamo ancora per quello che hanno fatto per la filarmonica quindi Flavio Brunacci e Gianna Naldi, grazie 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 niente, volevo soltanto ringraziare Gabriele Acresta per questo ruolo nuovo sono più conosciuto come Presidente dell'Ausa e volevo praticamente poi ringraziare anche il Sindaco perché come attore amatoriale ho apprezzato molto questa idea del teatro devo dire che praticamente è una grande idea oltre me c'è un'altra compagnia a Torino ma c'è una grande compagnia qui ad Arpignano e penso che questa sarebbe proprio un'occasione grandissima come allo stesso tempo vorrei essere di supporto a Gabriele perché c'è un altro sogno adesso che faccio parte anch'io della filarmonica che poi vuol dire un insieme di amatori della musica e volevo essere di supporto per Gabriele perché Gabriele ha un grande sogno quello di fare una scuola di musica e io penso di essere, spero di poterla fatta cioè praticamente la sta iniziando e quindi penso che potrebbe praticamente essere ancora maggiormente 90 e mi piacerebbe praticamente che i bambini come praticamente facevamo nella scuola che scriviamo musica, ci accompagneranno mi piacerebbe che i bambini potessero frequentare queste scuole grazie ancora e buon direttimento grazie a tutti 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 grazie a tutti